ben trovati rieccoci a parlare di juventus e parliamo questa volta del tutto sport il tutto sport finalmente si è svegliato dal torpore cinquantennale sessantennale dalla dall'etargo devo dire un letargo nel quale ha lasciato soli i tifosi della juventus anche il tutto sport che solitamente non adesso in passato è stato punto di riferimento a parte la parentesi durante calciopoli con lo stesso tutto sport che difendeva e ha avuto poi ragione la juventus in quel periodo tanto è vero che superò e questa l'indicazione migliore la gazzetta dello sport nelle vendite ci fu un periodo in cui il tutto sport superò totalmente la rosea l'annichilita soprattutto quando la gazzetta dello sport diventò giustizialista anzi co socia della della ringa anti juventina in italia per la verità lo è sempre stata ma da quel momento in poi ha toccato vette altissime di anti juventinismo di odio di rancore quell'odio e quel rancore che si annidano in chi non è tifoso della juventus al di là delle discussioni da bar fatte da amici solitamente non professionisti ma ci sono i professionisti o i pseudo tali avvocati piuttosto che architetti piuttosto che ingegneri magistrati scienziati giornalisti i quali sono persone per bene eccellenti ma quando parlano di calcio dimostrano di essere la peggiore specie delle persone appunto scusatevi per la cacofonia perché mostrano un astio una rancore contro la juventus da far accapponare la pelle perché se uno dice se un professionista del genere arriva a tanto figuriamoci dove siamo arrivati io mi rendo conto che l'anti juventinismo da molti viene preso in considerazione per farne un mestiere tutto sport in questo accentrato accentrato chiaramente e a quelli li giustifico perché sono alla ricerca di danaro e macchiavellicamente se tanto per dire un pistocchi fallito a tutti i livelli come uomo come giornalista come opinionista va a twittare contro la juve per avere un po' di seguito e loro mi rendo conto cioè lo schifo ma lo giustifico è la stessa cosa variale variale il maiale che ha fatto sempre questo ha utilizzato i microfoni della tv di stato per fare l'ultras e ora è costretto a twittare quindi a reinventarsi un lavoro cioè l'anti juventinismo per riuscire a restare a galla il peggiore arbitro del mondo è diventato il migliore arbitro del mondo per aver espresso chiaramente arbitraggi contro la juventus da arresto perché lì ci sono stati arbitraggi basta vedere le immagini e andare a vedere come fischiava Collina da arresto da Perugia in poi o anche precedentemente però lo hanno fatto diventare il miglior arbitro del mondo è tra i più contestati io ricordo bene c'è un'età purtroppo addirittura con disegnatore addirittura dirigente UEFA, FIFA tutto quello che si è portato dietro essere anti juventino ci ha costruito una carriera sull'anti juventinismo perché cominciò a piacere agli anti juventini e allora lo hanno esaltato uno che sbagliava 150 volte a partita e Collina è stato lo spartiacque del fallimento dell'AIA settore arbitrale italiano prima di Collina dicevano la fischietteria italiana la migliore del mondo dopo Collina addirittura non li fanno arbitrare manco le finali più agli arbitri italiani messi alla Berlina in un altro video poi vi dirò perché c'entra Collina nella sconfitta della Juventus nella finale di Coppa dei Campioni con il Barcellona potete trovarlo su tuttoyove.net o su calciogol.it ma poi ve lo dirò anche di persona il caso Collina nel 2004 pensate il calciopoli non si sapeva nemmeno che fosse scoppiata nel 2003 voglio dire mi istigò a fare un sito prima pagina della gazzetta dello sport naturalmente www.odiocollina.com ci sono ancora articoli dell'epoca che troverete su youtube o meglio su google e anche in quella circostanza io misi in evidenza tutto quello che stava accadendo è Collina l'anno in cui ho fatto quel sito e aveva praticamente gli stessi sponsor del Milan Opel e Adidas andate a vedere chi vinse lo scudetto e andate a vedere chi mi è da ridere in che modo quante volte gli fecero arbitrare la Juve e quante volte la Juve perse con la squadra più forte perché aveva la squadra più forte quindi di Collina proprio che è stata la vergogna la negazione del calcio negli ultimi vent'anni e di più ma di questo nessuno vi parlerà mai l'anti-juventinismo di Zeman un fallito fallito intellettualmente fallito tecnicamente fallito come allenatore fallito come preparatore fallito come talent scout fallito a tutti i livelli è il più retrocesso allenatore che c'è in Italia è il più esonerato allenatore che c'è in Italia non è stato lui a portare il 4-3-3 ma Amarildo negli anni 60 con la Fiorentina e Vinicio con il Napoli negli anni 70 73-74 la ricordate Carmignani Bruscolotti e Pogliana Burnic Vavassoli e Orlandini Massa Giuliano Clerici Esposito e Braglia quello fu il 4-3-3 quindi chi mi dice che Zeman ha portato in Italia il 4-3-3 dice fesserie bugie e fece il secondo posto Vinicio con quella squadra ma io non dico questo dico che Zeman capito l'anti-juventinismo per tenersi a Galla ha dovuto parlare contro la Juve altrimenti a Galla non ci andava altrimenti non lo avrebbe preso nessuno e quando lo prendevano in giro coccolandolo le società maggiori per farlo parlare contro la Juve vedete se lo hanno mai ingaggiato a parte Roma e Lazio guardate se lo hanno mai ingaggiato si vanda di aver fatto esordire Totti ma se ne vanda anche Mazzone un altro poi invece Totti è stato fatto esordire da Vucet Mboskov valorizzato da Carlos Bianchi poi arrivano Mazzone e Zeman si vandano parolai e le loro parole anti-juventus li hanno tenuti a Galla e siamo ai giorni di oggi parlare contro la Juventus è diventato un mestiere e ritengo che questo è un fatto mirato perché mentono sapendo di mentire ma quando i professionisti tentano di fare battaglie e non vogliono sentire ragione cioè se tu ti vai a confrontare davanti a un bar o per strada è capitato qualche settimana fa che un professionista della mia città l'ho dovuto mandare al paese di Beppe Grillo per uno che ha fatto il direttore di Banga perché di fronte a un episodio ancora sosteneva il contrario è dicendo la Juve ruba cioè se i professionisti si mettono al posto degli ultras delle curve fra l'altro tutti gli ultras hanno una solidarietà fra essi enorme io mi chiedo come si fa ad avere serenità in Italia e allora il Tutto Sport in questi giorni sta portando avanti una battaglia Moggi ne sta portando un'altra sulla sua pagina Facebook e io credo dove voglia andare a parlare Moggi ma non è quello l'argomento di questo video e allora vediamo il Tutto Sport che cosa ci propina a proposito di questa sua battaglia nata in ritardo perché adesso non ha di che parlare perché i mondiali diciamo non fanno fare opinione e allora addirittura il direttore Vaceago che mette a confronto le frasi di Arriva Bene attuali che poi sono quelle di Giampiero Boriperti cosa dice Arriva Bene secondo il Tutto Sport ci sono un odio una gelosia nei nostri riguardi che mi spaventano e che mi fanno riflettere sul divario fra la passione folcloristica di ieri e la rabbia devastante di oggi ma anche prima c'era una rabbia devastante oggi sfocia più dei social ci sono più tv ci sono più ma immaginate il gol di Turone un gol nettamente in fuorigioco e Carlo Sassi dopo 30 anni prima che facesse vecchio 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 ha dovuto dire ma non è tempo la moviola per dimostrare che quello era fuorigioco ma perché abbiamo trovato uno come Carlo Sassi e quindi un dirigente scrive Tutto Sport della Juventus ha pronunciato queste parole la domanda è dice il direttore di Tutto Sport perché suonerebbero bene in un'intervista di Maurizio Arriva Bene da qualche giorno fa ma in realtà si tratta di una dichiarazione di Giambiero Boniperti nel dicembre del 1976 era il 29 dicembre di 46 anni fa quando Tutto Sport pubblicava un'interessante inchiesta dal titolo come è difficile fare il tifoso della Juventus cosa che io dico da tempo l'ho detto anche in alcuni convegni lo firmava dunque Carlo che partiva da una sede di fatti di cronaca tifosi e giocatori stessi erano stati vittima di violenza e agguati ma l'orizzonte del servizio si ampliava analizzando il sentimento anti-juventino che già allora si respirava in Italia molti di voi avranno letto questo articolo e quindi è ormai facile immaginare quello che accadrà negli stadi dove andiamo a giocare scriveva Boniperti se già c'era antipatia nei nostri confronti ci aggiunge anche il sospetto continuo arriva bene nessuno ha più il coraggio di portare una bandiera bianconera fuori dal Torino diceva Roberto Bettiga nel 1976 mentre allora direttore generale della Juventus Giuliano spiegava che il pullman della Juventus era protetto da una speciale assicurazione perché alla fine della stagione aveva ricevuto danni per 4-5 milioni di lire la vecchia lira ovvero la stessa cifra tutti gli altri pullman delle clave di serie A sommati insieme perché Boniperti allora parlava di certosporti di invidia di gelosia per i successi è innesso fra vittoria e antipatia ancora oggi logico e funzionale all'analisi proprio Boniperti nel 1971 aveva preso una Juventus reduce da un decennio grigiastro anonimo durante il quale non aveva suscitato nessun sentimento astioso e perché poi ci sono i periodi in cui la Juve non vince dove questo sentimento cala già i primi scudetti della sua gestione e ritorno a un ruolo predominante nel panorama italiano ed europeo aveva invece rinvigorito l'opposizione ai colori bianconeri in fondo per capire un aspetto importante scrive tutto sport del nostro paese c'è un aforismo di Enzo Ferrari che vale dieci temi di sociologia gli italiani ti perdonano tutto tranne il successo cosa che poi ha ripetuto anche Agnelli e il fondatore di uno dei marchi più famosi del mondo ne sapeva qualcosa di italiani e soprattutto di successo sta tutto lì in quelle otto parole del Drake Enzo Ferrari vincere va bene vincere troppo no diventa antipatico perché in Germania non esiste un così radicato sentimento di Bayern che domina il mondo anche più brutale la scena calcistica nazionale ce lo chiedevamo io dicevo in un altro video a proposito del Real Madrid al club bavarese la scena calcistica nazionale dunque è sempre quella più importante ma nessuno si lamenta al Bayern vengono anzi sempre riconosciuti i meriti e traspare quasi un orgoglio nazionale quando ottiene successi all'estero quindi quando vi dicevo che l'Italia non è andata ai mondiali nei video precedenti perché la squadra più importante viene continuamente bersagliata vilipesa e ostacolata con astio rovente ecco nella Germania che qualcosa ha da insegnarci praticamente la risposta è questa la Juventus raccoglie viceversa un diffuso tifo contro che raggruma in modo trasversale l'antagonismo raccogliendo sostenitori di tante squadre diverse fino al punto da poter sostenere che in realtà pochi sono i neutrali e il paese calcistico si divide sostanzialmente in due Juventini e Anti Juventini e come spesso accade in politica non c'è più logica critica analisi ma solo faziosità e divisioni in due partiti o stai da una parte o stai dall'altra o attacchi o difendi non puoi ragionare né distinguere o stai dentro fuori giusto un attimo che vado in redazione per alcune per alcune per alcune informazioni eccomi qua allora continuiamo con questo articolo di Tosport che stiamo commentando sono queste circostanze ad aver fertilizzato il terreno per il mestiere dell'anti-juventino perché in un mondo che preme all'audience ammiccare al 75% dei tifosi italiani può anche essere un affare quello è e per qualcuno lo è diventato costituirsi costruirsi scusate un personaggio che attacca la squadra più potente d'Italia significa anche poter diventare il paladino di una consistente parte degli appassionati quindi raggiungere un audience monetizzabile e crearsi un'immagine da duro che non si piega ai poteri forti certo c'è pure chi oggi fa lo youtuber vestendosi con la maglia della Juventus e il juventino non lo è stato mai ma ha compreso però ha compreso il discorso contrario e allora dicevamo non si piega ai poteri forti ma che difende una minoranza di diciamo di 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 tifosi il che è buffo dice tutto sport perché in realtà si sta rivolgendo a una maggioranza così come il fatto che la Juventus venga identificata come la squadra dei ricchi come se gli storici proprietari del Milan o dell'Inter fossero poveri si pensi a quando erano Berlusconi e Moratti o piccoli imprenditori tutte le grandi squadre sono uguali e hanno uguali interessi e quindi atteggiamenti ma che percezione ma la percezione è diversa identici comportamenti hanno avuto trattamenti opposti anche nell'ambito della giustizia ordinaria forse anche perché più in generale chi va contro la Juventus appare quasi sempre come un eroe che sfida l'impossibile mentre non è più difficile rispetto a qualsiasi altro grade grande club oggi nel nuovo scenario dei social scrive tutto sport sui quali il seguito e l'attenzione si trasformano in soldi essere anti-juventini è per molti un mestiere funziona genera dibattito e per usare il termine tecnico engagement perché c'è il 70% dei tifosi che sono potenzialmente d'accordo con quello che dice il 30% ovvero i tifosi bianconeri che sono morbosamente interessati a quello che dice anche solo per arrabbiarsi con te tanto per stare proprio in tema chi parla contro la Juventus viene seguito perché gli si piace sentirgli dire quelle cose dagli anti-juventini ma anche dagli juventini i quali pur di andare ad ascoltare quello che dicono quelle persone quei furbetti fanno fare monetizzazione consenso e audience agli anti-juventini che hanno scelto per mestiere l'anti-juventinismo e quindi e quindi e il dissenso sui social genera sempre più attenzione che il consenso si arriva insomma al paradosso che per così dire parte dello stipendo degli anti-juventini viene pagato dagli juventini stessi che generano traffico su notizie o post che a ragione o torto parlano male della loro squadra tutto questo indisturbati perché la Juventus non ha l'abitudine di smentire contraddire contrattare mediaticamente smentire una bufala è come diffonderla due volte questo è chiaro è una legge di comunicazione lo recita il manuale del perfetto ufficio stampa e il concetto conserva ancora oggi un fondo di verità appunto è più in generale discutere con un oppositore sistematico finisce per dargli ancora più importanza questa è la filosofia della società che poi è la filosofia degli Agnelli che l'ha sempre adottata nell'universo Fiat che gli altri parlino noi facciamo usava dire il senatore Giovanni Agnelli che l'ha sempre adottata nell'universo Fiat il patriarca della famiglia quasi a segnare il distacco fra le chiacchiere e il lavoro poi si conclude non sempre questa scelta piace ai tifosi una delle richieste più frequenti è di essere è di non essere difesi di dare delle risposte forti di andare all'attacco anche attraverso vie legali verrebbero insomma vorrebbero insomma che la Juventus combattesse l'antijuventinismo pronti a correre il rischio che questa battaglia faccia il gioco proprio di chi ne ha fatto un mestiere e con il rischio più grosso che corre è quello di non essere considerato questo scrive Tutto Sport e personalmente io sono totalmente d'accordo perché perché a dire a vie legali per esempio i tifosi dell'Inter che ce l'hanno con me per le mie battaglie verso la giustizia che dovrebbe dunque attraversare la schiena anche degli interisti e dico ma perché l'Inter non denuncia Vessicchio per lo stesso motivo innanzitutto perché quello che dico io è dimostrabile e l'Inter mi dovrebbe ricoprire di soldi e poi perché più mi si mette all'angolo non rispondendomi più io vado all'angolo e questo e questo sta succedendo la Juventus ma che l'antijuventinismo oggi abbia più fasce abbia più scale abbia più piani fuori luogo e più cambiano i tempi più cambia l'antijuventinismo da sempre c'è stato l'antijuventinismo e allora il concetto che la Juve rumba senza poterlo dimostrare e quando poi si è andato a dimostrarlo a tentare di dimostrarlo non si è dimostrato mai con processi inchieste retrocessioni perché l'hanno addirittura retrocesso senza dimostrare che ruba anzi io provocatoriamente più volte ho detto la Juventus ha vinto 38 scudetti più uno di serie B39 tutti gli altri gliel'hanno rubato perché io ritengo personalmente che anche quando la Juventus è più scarsa delle altre squadre viene costantemente aggredita dagli arbitri dal sistema dagli ambienti e gli antijuventini fanno leva sull'antijuventinismo per terrorizzare gli arbitri la forma di demonizzazione della Juventus mette paura ai fischietti perché l'arbitro nel momento in cui deve fischiare una un fallo a favore della Juventus ci pensa cento volte perché pensa poi a che cosa esplode in Italia alla guerra mediatica io ho fatto delle inchieste su Orsato delle inchieste su come Orsato tentava la scalata collina contro la Juventus e addirittura in un Juventus Napoli del 1516 ci fu la designazione di Rizzoli e a Napoli venne ostacolata chiedeva per arbitrare Juventus Napoli misero Orsato Rizzoli si dovette accomodare e Laia stette a sentire a questo sondaggio dei tifosi del Napoli finì 1-0 col gol di Zazza ma cosa ha combinato Orsato e in quella partita vergognosa Inter-Juventus dove la Juventus meritava di perdere Orsato ha fatto sei errori gravissimi a danneggiare la Juve si sta parlando da anni della mancata ammunizione a Pjanic in una partita dove Orsato contro la Juventus ne ha fatte di tutti i colori il tifoso della Juventus esce pazzo sapete perché esce pazzo perché si guarda le partite della Juve guarda questa costante continua guerra la Juventus da parte degli arbitri dei VAR degli assistenti dei telecronisti degli opinionisti viene danneggiata e poi a fine partita legge la Juve ruba è quello l'uscire pazzo dei tifosi della Juventus e scientemente lo fanno scientemente volutamente sono già pronti attenzione vado un'altra volta in redazione ho delle notizie e eccomi l'altro giorno nella partita Verona-Juventus avete visto cosa è successo è un fallo di mano che quando io ho fatto l'arbitro anni fa è fallo di mano è rigore ci sono poi delle integrazioni dei mutamenti quel fallo di mano secondo il regolamento attuale non si fischia più perché mentre il giocatore del Verona ha tirato la palla è stata deviata da un giocatore del Verona stesso ed è andato a finire su un braccio del giocatore della Juventus l'arbitro applicando il regolamento non ha dato il calcio di rigore tutte le moviole hanno detto questo tutti questi santoni che solitamente vanno contro la Juve hanno detto questo i soliti noti la Juve ruba il rigore c'era ecco li qua sono ritornati dopo che nelle prime giornate di campionata almeno sei episodi netti contro la Juventus vistosamente ma poi la cosa la rabbia più grande la fanno venire ecco perché sono cattivi e mentono sapendo di mentire ogni volta che c'è un errore contro la Juventus a danneggiarla avete rubato per 50 anni allora esiste esiste l'anti-juventinismo esiste questa corrente di pensiero che per molti è soltanto un sentito dire lo dicono per stare alla moda per giustificare i propri insuccessi altri lo dicono perché non capiscono un cazzo e sono i professionisti di cui professionisti avvocati ingegneri piuttosto che architetti quelli che vi ho detto prima altri invece che lo fanno per mestiere ma ve ne dico un'altra il famoso rigore su quadrato con l'Inter che già aveva vinto il campionato quello è un rigore netto io ci ho fatto un video che ha fatto oltre 15.000 visualizzazioni perché quadrato entra in aria fa il cambio di direzione per i sicilifrani addosso per un tweet di Varriale fatto un minuto dopo tutta l'Italia disse che quello non era calcio di rigore ed era un fallo di quadrato e tutti abboccarono mentre in quella partita cinque episodi contro la Juventus che l'arbitro della partita aveva concesso alla Juve regolari furono cambiati dal Var nella stessa partita però loro trovano il pelo su un episodio e viene scendendo la fine del mondo come si fa a dire che non c'è una massa divisa in più settori che volutamente si organizza e mina alla vita del club in Italia della Juventus un fatto vergognoso un fatto chiaro cioè non è uno c'è il dubbio che fate come gli altri complottisti no qui non stiamo parlando di complotti qui stiamo parlando di cosa si verifica e gli arbitri soprattutto quelli più giovani pur di fare carriera fischiano contro la Juve nel dubbio sempre per paura che i professionisti dell'anti-juventinismo a partita in corso quasi in tempo reale cominciano a buttargli falco addosso condizionando l'intera nazione perché questo capita con i social è cambiato il ruolo dell'anti-juventinismo prima si annidava nei giornali alla Rai oggi successivamente a Mediaset dove contro la Juventus hanno fatto l'ira di Dio ricordo Piccinini essere stato escluso dal programma Pressing quello originale perché i juventini cominciarono a boicottare i prodotti della trasmissione Pressing la fecero chiudere subito dopo Calciopoli quindi oggi c'è una forma attraverso i social nella quale ci sono dei professionisti dell'anti-juventinismo Pistocchi Varriale e qualche altro scellerato qualche altro fallito che non ha più niente da fare nella vita e si è inventato il lavoro dell'anti-juventinismo una cosa vergognosa una cosa obrobriosa e c'è chi ci viene a parlare che l'anti-juventinismo non esiste altro che che esiste è vero è reale la Juventus fa gola ai non-juventini e Tutto Sport si accorta molto il ritardo cioè Tutto Sport ha pubblicato il 24 novembre la classifica dal 2006 cioè da Calciopoli a dopo dei rigori credo che debba escludere il periodo di Allegri perché con Allegri si difende solo quindi non va in area di rigore e deve prendere per forza meno degli altri ma al di là della battutaccia è evidente che è scontato quello che si sta verificando è vergognoso è fuori misura dice la Juventus perché non si non si difende come dice appunto Tutto Sport e come diciamo la strategia della casa madre impone ma che vuoi difendersi da Gentaglia un tentativo lo ha fatto lo ha fatto molto duramente Antonio Conte quando era allenatore della Juve e andava in tv a scontrarsi vi ricordate Boban quello squallido personaggio di Boban che ha barato sul pallone d'oro di di quello scadente centrocampista della Real Madrid Modric pallone d'oro Modric quando Boban è andato a fare il vicepresidente dell'UEFA ha avuto un incarico in quel settore guarda un po' il suo connazionale ha vinto il pallone d'oro vabbè ma si babà ormai siamo abituati non è che ve ne devo dire io il problema è è questo che c'è questa oggi ci sono i social prima c'era la tv chi non è riuscito a insistere è stata ad incidere è stata la radio perché la radio la radio ha selezionato sempre i propri professionisti da Sergio Zavori in poi c'è stata la una corrente di pensiero di grande professionalità e tutto il calcio minuto per minuto era lo specchio poi dei minuti in cui c'erano le notizie all'interno del dei GR una volta si usava così e lì non davano non davano assolutamente giudizi ma cosa succedeva a novantesimo minuto voi non ve lo ricordate me lo ricordo io le illazioni gli insulti che davano alla Juve anche sotto forma e la domenica sportiva quello che ha combinato la domenica sportiva soprattutto quando è stata condotta da gente un po' distante dal calcio e poi e lì è stata la mazzata del calcio il processo di lunedì trasformato poi nel processo di Biscardi e via dicendo il primo processo di lunedì quello condotto da Enrico Ameri e ideato da Sergio Zavoli era sicuramente un processo di lunedì sulla falsariga del processo alla tappa di tutto il ciclismo minuto per minuto che poi arrivò a tutto il calcio minuto per minuto perché Zavoli sapete si interessava molto di ciclismo e riportò il modello ciclistico anche nel calcio e allora era diciamo tutto in maniera su superpart tutto molto professionale quando entrò Biscardi pace all'anima sua ma era un personaggio proprio incredibilmente negativo cominciarono in Italia gli scontri totali perché poi Biscardi ospitava pseudo giornalisti che facevano i terroristi ma dell'anti-juventinismo potremmo parlare giorni giorni mesi potremmo scrivere libri e enciclopedie dell'anti-juventinismo e il tutto sport ma adesso se ne è accorto nel 2022 forse in passato qualcosa l'ha fatto quando ha avuto qualche direttore di un certo livello ma il tutto sport oggi che è nelle mani dello stesso editore del Corriere dello Sport romano fra l'altro milanese dall'altra versante tifoso dell'Inter oggi si accorge che deve vendere qualche giornale perché non vanno bene né il cartaceo né sul web non vanno più opinione a fare opinione è la gazzetta che ci frega io non la compro dal 2006 figuriamoci un po' non l'ho mai comprata mai però la vado a leggere a scrocco e mi rendo conto che le notizie poi ufficiali è ancora la migliore ma che conserva l'anti-juventinismo e lo palesa lo dimostra lo mette in evidenza appena possibile e usa poi la sua credibilità purtroppo devo dire perché è credibile su quella che è la sua attività giornalistica ma poi quando deve passare per l'anti-juventina usa subito la mente quel sistema per dare addosso alla Juventus cioè quella credibilità che si gioca sul capo anche con il calciomercato il calciomercato la gazzetta al 90% ci azzecca al 90% poi però usa con dei titoli anche ad effetto tutto l'anti-juventinismo possibile di questo mondo ecco perché da me non vedranno mai una lira ma in a scrocco me la vado a leggere perché devo scroccare quelli sono persone che vanno scroccare ma i giornali stanno finendo i giornali sono ormai nell'edicola e non se ne compra più nessuno li devono regalare li mandano a me mi arriva sul cellulare mi arrivano tutti i giornali sul cellulare e arrivano tutti quanti chi li vuole per cui sono in caduta libera ma l'anti-juventinismo non morirà mai l'anti-juventinismo andrà avanti con la Juventus ricordatevi questo e io però dico che grazie all'anti-juventinismo la Juventus diventa sempre più grande e l'anti-juventinismo che fa regnare la Juventus fateci caso quando la Juve va male e c'è qualche episodio che viene contestato poi dagli anti-juventinismo in maniera netta a livello nazionale con aggressioni di tutti i generi e poi la Juve si riprende e sugli episodi sono loro i veri stimolatori della Juventus sono gli anti-juventini e la Juventus andrà bene fino a quando gli anti-juventini esisteranno quando non ci saranno più gli aggressori che mentono sapendo di mentire allora la Juventus scomparirà hanno fatto hanno tentato in tutti i modi di farla scomparire la Juve si regge non per il 30% dei propri tifosi ma per il 70% degli anti-juventini ecco perché si regge la Juventus pensate bene a quello che vi sto dicendo la Juventus c'è grazie all'anti-juventini altrimenti sarebbe morta perché io faccio il discorso inverso della gazzetta dello sport quando gioca la Juve tutti attenzionati addosso per vederla perdere quando c'è qualcosa contro la Juve vanno tutti sulla Juve perché vogliono vederla soccombere ecco perché in questo caso tutto sport sbaglia e sbaglia tanto fa bene a fare la battaglia perché è sempre tardi sottolinearlo ma è anche vero che se la Juventus ha questa grandezza ha questa plenipotenzialità sotto tutti i punti di vista lo deve agli anti-juventini i quali per tifarla contro la seguono e la rendono grande ed è questa secondo me la vittoria più grande della Juventus la vittoria della Juventus è vedere che gli anti-juventini la sostengono non comprando magliette cose sono stupidaggini questo è un immangolo 0,01% dell'introito di una società ma soprattutto nella razionalizzazione del concetto di anti-juventinismo quanto più vince tanto più gli anti-juventini rosicano diventano roditori e tanto più la Juve cresce quando la Juve va male gli capita l'episodio a favore l'Italia anti-juventino si scatena e la Juve si riprende come ad un tratto si riprende quindi gli anti-juventini esistono e come perciò la Juve ha vinto tanto alla prossima